Ciao raga, com'è? Tutto bene? Oggi giocheremo all'allegro chirurgo gigante Con dentro una persona Perché chi sbaglia praticamente farà prendere una leggera scossa alla persona Ma dentro la scatola Quindi entri prima tu Eh sì, è certo, le solidarietà Guardate qui che cosa è stato costruito Se volete vedere la realizzazione di tutto quanto Basta andare sul canale di Marta Rossi Che ha dipinto gentilmente Tutto E io invece ho fatto il circuito E questo video uscirà poi domani Io ho perfezionato un pochino la scritta qua davanti La Vale no, no, dai diciamolo è anche dipinto È anche dipinto la Vale Come funziona questo gioco? Praticamente è tutto collegato Ci sono dei bucchi, dai sicuramente ci avrete giocato anche voi Certo, tutti da piccolini Ma anche se non sei piccolo, cioè è un gioco un po' per tutti E bisogna prendere delle ossa all'interno Ecco già sta rossorando Vedete, all'interno ci saranno delle ossa più la persona ovviamente Ok Bisogna cercare di prendere quell'osso senza toccare che fai Nooo Oddio Una domanda Luca Dimmi Come cavolo hai fatto a fare questa cosa? Cioè le sei tornere... Io non riuscirei mai a fare tutto un contatto del genere Cioè questa cosa se io tocco il bordo si... Tutti Ma come possiede? Non l'hai capito? Lui era dentro la scatola infilato che faceva dei collegamenti Guarda dentro È tutto pieno di collegamenti Ma non c'è fuori... Le mie nottate sono queste Ma c'è una manteria? Eh sì, e se no come fa da tenere acceso tutto quanto che va a fare tutti i marchi Quindi entri tu? Come io? Io per primo? Tu per primo! Ah la testo io per primo! La testo io per primo! Io per primo! Luca! 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 Ora ti abbandoniamo Devi cercare di entrare da solo No 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 Non gliela teniamo! Noo scherzo mi dispiace Tanti fa ho ancora le scarpe sporche di vernice Per colpa di Marta Non è vero! Tenemi la schiena, tenemi la schiena Ma te l'ho matto! Ah! Ho paura! Ma c'è un po' scherzato Guarda Luca! Guarda Luca! Guarda Luca! Ci stai? Ci so! No vabbè! Devi infilare la testa fuori! Guarda che ritengo la sirena qui Ok Nooo Luke! È bello? Senti! Allora Su di me dovete mettere le ossa Ah! Negli spazi giusti Perché più o meno le ho ritagliate più o meno uguali Bello! Io voglio mettere il cast Se ancora non l'avete fatto raga mi raccomando lasciate like e cliccate sulla campanella Luca ma fai troppo ridere Una nuova regola Si? Chi sbaglia e mi fa prendere la scossa diventerà il paziente Nooo! Eh si eh! Eh si! Per questo! Non l'ho fatta apposta Inizio io! Perché sono passorella Ok Io direi di prendere... Uh! Questo mi fa... Vai piano! Vai piano! Piano Vale! Ah! Ah! Toccato! Piano! Ma fa male? E' leggerissima E' leggerissima E' leggerissima Valentina! Ma aspetta! Scusa! Lei devi diventare il paziente Devi diventare... Vai! Ho molti faccia da ridere Valentina... Marta! Eh! Valentina Queen! Cosa c'è? Allora... Ho preso scosse tutto il tempo Era una scossa continua Ma prendi questo Dritti! Ok, prendi Uh! Visto! Visto! Visto che è facile! Brava! Brava! No 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 no! Ok, ora tocca a Marta No mio Dio! Marta! Questo qui? Ah! Marta! Che fai non arriva sull'arriva che non legge la verità Ah! Marta! No! Marta è la paziente ora! Visto! 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 Ragazzi! Visto! Allora come facciamo? Visto! Alzo l'arriva... Fai chi prenderà? Ah! Marta! 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 No basta! Ora sei la paziente! Mi sto stancando! Devi soffrire! Vai! È un'operazione molto seria Come gioco Ah! 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 Uh! Marta Cera! Eeeeeee! L'abbiamo levato! Questo che cos'è? Il fegato? Sì, però mi avete dato la scossa tutte e due Vai, te la ridiamo di nuovo No, 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 Marta No, Marta, vale La prima che mi ha dato la scossa è stata Valentina, quindi entra lei Vai, vale Sì, sì Ma io ho l'ansia Non ti preoccupare Avete tanto solo due parti di corpo Sì Vieni qua, vieni Vai, sdraiati, sdraiati Che bella Ho più pancia Ok, chiudi, chiudi Ma com'è che mi avete infilata qua dentro, Luca? Col braccio devi toccare questo pezzo di rame Ok, per prendere Ok, qua Ok, perché sennò non prendi la piccola scossa Allora dai, mettiamo di questo Ma io non la voglio Ferma, ferma, ferma Ciao Bene Stai via Ci siamo Parto io No Si vuole avendicare, ma non sai che è da poverina Sono la sorella minore Ma è leggerissima, aspetta, senti Ma io la sento un pochino Senti No, io non lo tocco No, toccalo No, non lo tocco Non lo vuole toccare Ho paura Va bene, dai, parto io Parto io Ok, sono tu a salire Ok, proverò a prendere il cuore Bravo Non mi toccare Mi fatto paura Antour Aspetta No, no, no Tenilo giù, tenilo giù Non respirare così Come faccio a non respirare Tenilo giù No No Stai beccando Luca Luca Mi fa male Mi fa male Mi sto arrabbiato Non resta Prende me Prendo questo Che cos'è questo? Eh, questo Scusa Scusa Laca Devi non respirare Ma come scusami Scusa Ma non paura Con le mani Operazione Ho paura Ma come? Volevo l'anestesia Liberato Fatto Tieni Prova a levarle Questo Solo uno Aspetta La becchi Non la becco Bravo Fate calmi Sì, ma mi hai fatto la scossa cinque volte Bravo, amore Sei stata brava Però già ho tolto un pezzo di cuore Vuoi fare te? Faccio io No, no Ho paura Ma perché le belle Le belle Le belle Le belle Le belle Le belle Tu non saresti capace Non ce la faccio Raga, visto che è troppo difficile Vi ti amo Non ne voglio È arrivato internet Raga, non posso farmi trovare Raga, è arrivato il tecnico No, amo, mi vergoglio Ciao Salve Allora, niente Praticamente Questa No, devo tirare fuori Tutti Oddio, poverina Ci penso io a te Oddio, ma come faccio io ad entrare? Così come Ora tocca a Marta Hai la persona stompa No, no, no Tocca a Marta che ancora non la fa Ti prego Ma non è vero Ti spingiamo dentro noi Vai, alta il sacco Qua c'è il cuscino Guarda che Luca, Luca ti mette a destra così Devi tenere la mano sopra qua Guarda la mano Sopra il pezzo di rane Con paura Ma no, no Se lo facciamo in contatto Aspetta, allora ti mettiamo dentro i pezzi di corno Raga, andate piano a questa cosa qua Ma io l'ho costruito Però potevo stare solo a costruirlo Non dovevo provarlo A te l'onore Vale, vale, ti prego No, no, veramente Allora, voglio andare sul difficile Che cosa prendi? Vai, vai, è sul facile Cosa prendi? Ho paura, ho paura Ah, io vale, vale Che spavenza che mi hai fatto Ma non dai bene la scossa che dici Lo bello, sì, sì Sento che mi pizzica Vale Oh, ma no, non mi fa Tocca a me, ci provo io No, ma Ma non mi sembrava di toccare Luca, l'ha toccato Non l'ha toccato Ma scusa, se la senti una scossa Che tieni la maniera Sì, perché te lo do io Te lo do dalle mani Dov'è, buco? Dai, non parare Ho paura Secondo me adesso mi macchina fuori Mi brige come un uovo Ah Mi sento Leggermente Tu com'è che la senti? Eh, Luca, Luca Mi hai peccato Maia Maia Non mi ha chiesto Ma scusa E' più facile da prendere Così, te, te No? No, 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 troppo Ok, così Oh, no Allora, se proprio non mi devi vedere Ho l'ultima Maia Provo io, provo io, provo io Dai Luca, dai, io so A me piano Ma Non ho tacco più quel rame Non c'è la pancia Non c'è la pancia Uuuuh Ahahah Ma l'ha fatto uscire Aiuta Ma scherzo, ti fa uscire Luca Un po' 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 Ciccio Tocca a te Tocca di nuovo a me Però questa sarà l'ultima manche, ok? Vai, entro te Ok, vedrai Vai, vai Ovviamente, raga, scrivetemi nei commenti Che vorreste vedere dentro Sono allegro chirurgo Che io lo invito qui E vi faccio fare sto gioco, ok? Ok, bello Le, le Le, non è che lo butto Io mi tendo la schiena Io vado giù di schiena Luca, dai, Luca Mamma mia, come si infila come un bradico Vai, entra dentro Fingilo che sei stato cattivo nei nostri confronti Ci ha fatto male Adesso vede Adesso vedrai Dammi tutta quella pistola Ci diamo qua Visto che lui è stato così cattivo Allora, mano sul rame Ma il rame chi è? Beccatelo Ah, guarda Ah, 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 ah Ma non abbiamo ancora amassi in casa Marta Gli sta bene Ok, mettiamogli l'osso Allora, mettiamogli l'osso Secondo me non sta toccando il rame Fammi vedere Sì, no, lo sto toccando Vai Piano, vale Luca, non sai che ce la fa Vale Ah, vai, vale, prendilo Con le mani, ma che perazzo ne è? Ma poi, guarda lei Beccata Bravo Grande Ce l'è grande Mangiati un pezzo di polmoni Torca te Ok, perché non mi dispiace? Allora, proverò a prendere il petto Ma come si può alzare la scossa con te? No, 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 no No, 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 no Marta, Marta, Marta No, no, no No, 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 no Poverina Lasciami stare Non quello, non quello Che lo meriti Che lo meriti Non quello Preso L'ha preso, l'ha preso Stava bravo Mi dispiace Quindi? Quindi, raga, se mi è piaciuto Aia Se vi è piaciuto il video Lasciate like Cliccate sulla campanella Iscrivetevi al canale di Marta Rossi Dove si vedrà la costruzione di Ah Vale, vale, vale Ok, Marta Mi dispiace Dove si vedrà appunto La costruzione Dall'alegro chirurgo Non perdetevi il video Che è uscito sul canale Non perdetevi il video Che uscirà domani Il 14.30 Dove io farò la costruzione Del circuito di tutto L'alegro chirurgo Ci vediamo domani Ciao Ciao Vai, vai, vai Beccalo Beccalo No, 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 no Spero che questa mia invenzione Vi sia piaciuta È bellissima Se avete altri suggerimenti Su giochi strambi Che esistono già Da clicreare giganti Io ci penso Voi iscrivetevi Io mi ispiro Grazie ai vostri commenti Ok Iscrivetevi al canale Di Marta Rossi Valentino Grazie E noi ci vediamo domani Sia